Un calo della delittuosità del 12% nei primi quattro mesi dell'anno. E' uno dei dati dell'attività dei carabinieri del Comando Provinciale di Foggia che ieri pomeriggio nella caserma Guglielmi ha celebrato il 190esimo annuale della fondazione dell'arma. Con riferimento al primo quadrimestre di quest'anno, secondo quanto spiegato al Comandante Provinciale dei Carabinieri, il colonnello Vito Antonio Di Omeda, si registra un calo degli omicidi volontari che da 10 scendono a 4. In calo del 21% anche i casi di lessioni, percosse, minacce e ingiurie. 46 invece i casi di estorsione denunciati nel primo quadrimestre del 2012, inferiore il 9% circa rispetto ai 50 dello stesso periodo dello scorso anno. Ma ancora una volta i carabinieri evidenziano che si tratta di un dato non attendibile in quanto, come negli scorsi anni, è ancora poca la collaborazione delle vittime, molte delle quali non denunciano. Nel suo discorso, inoltre, il colonnello Di Omeda ha sottolineato la necessità di diffondere sempre più la cultura dell'elgalità, invitando i cittadini ad una maggiore collaborazione con le forze dell'ordine. Ed è stato lo stesso Comandante Provinciale a spiegare che la crisi economica e occupazionale, ancora più accentrata a Foggia e in provincia, rischia di diventare terreno fertile per la criminalità. Al termine della cerimonia, come tradizione, sono stati premiati i carabinieri in tutto 33, che si sono contraddistinti nelle recenti operazioni, tra cui anche i militari che hanno partecipato alla cottura dell'ex superlatitante Franco Libergolis.